Per ricevere la rivelazione e vedere Dio Padre attraverso Gesù, dobbiamo metterci in ginocchio e essere umili come i piccoli. Lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata nella cappella di Casa Santa Marta, commentando il Vangelo di Luca inserito nella liturgia del giorno. Lui ci fa conoscere il Padre, ci fa conoscere questa vita interiore che Lui ha. E a chi rivela questo? Il Padre, a chi dà questa grazia? Ti rendo lode, oh Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Soltanto quelli che hanno il cuore piccolo sono capaci di ricevere questa rivelazione. il cuore umile, mite, che sente il bisogno di pregare, di aprirsi a Dio, si sente povero. Soltanto quello che va avanti con la prima beatitudine, i poveri del Spirito. Chiediamo al Signore in questo tempo di avvento di avvicinarsi, di avvicinarci più, più, più al suo mistero e di farlo sulla strada che Lui vuole che noi lo facciamo. La strada dell'umiltà, la strada della mites, la strada della povertà, la strada di sentirci peccatori. Così Lui viene a salvarci, a liberarci. Che il Signore ci dia questa grazia.